Sono solo educatrice, quindi ho voluto un po' condividere tutto ciò che ruota intorno a questa figura. Ho laura magistrale, quindi sono anche pedagogista. Ho lavorato nel mondo dell'esperienza in questo senso e ho fatto anche un'esperienza all'estero di Erasmus durante il mio percorso di studi nella laura magistrale in Germania, in un servizio 06. Quindi ho fatto educativo, percorso di vita, un like perché l'algoritmo comunque lo necessita.